Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Il peromane della notte di nuovo in azione a Fano incendiato un altro cassonetto in zona mare nessuno è riuscito ancora a prenderlo Acqua marrone dal rubinetto la denuncia di un nostro reporter dall'ospedale di Senigallia Il camion perde parte del carico di ceste pieni di polli mentre effettua una rotatoria a molti gli animali morti In arrivo 50 telecamere per video sorvegliare le isole ecologiche per i furbetti del sacchetto abbandonato d'ora in poi la vita sarà più dura Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Dunque avete sentito dal sommario c'è un uomo, una persona che ormai da diverso tempo si diverte a dar fuoco ai cassonetti in giro per la città di Fano Ieri notte l'ennesimo incendio a fuoco un cassonetto giallo della plastica nella zona del mare nessuno ancora è riuscito però a individuarlo Poco dopo la mezzanotte di ieri intervento dei vigili del fuoco di Fano in zona Lido per un cassonetto della plastica a cui è stato appiccato il fuoco A chiamare il 115 sono stati residenti della zona allarmati dall'intenso e acre odore di plastica bruciata e dal fumo denso che fuori usciva dal contenitore per la raccolta differenziata Il punto è la stessa isola ecologica dove altre volte durante la scorsa estate e sempre di notte è stato dato fuoco però ai contenitori della carta più facilmente infiammabili come il 7 luglio scorso quando sempre dopo la mezzanotte è preso in fuoco il contenitore rosso forse ad opera della stessa mano di quest'ultimo episodio Durante lo scorso anno i vigili del fuoco di Fano sono stati chiamati almeno 6-7 volte per simili episodi verificatisi sempre tra Lido e Sassonia e per i quali è stata fatta una segnalazione alla procura della Repubblica di Pesaro L'intervento dei vigili del fuoco l'altra notte è durato pochi minuti giusto il tempo di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona ed assicurarsi che all'interno del contenitore non ci fosse materiale che con la combustione potesse rivelarsi tossico C'è una notizia che riguarda tutte le regioni italiane e dunque anche le Marche ma soprattutto riguarda il taglio ai vitalizi dei consiglieri l'intesa è arrivata il colpo all'ultimo baluardo dei privilegi pure il taglio dei vitalizi ai consiglieri regionali che porterà un risparmio di 150 milioni in 5 anni è dunque una realtà in dolore tra l'altro visto che l'accordo è scaturito da un'intesa raggiunta in conferenza Stato-Regioni e in pratica cosa cambia? Che si riceverà in base a quanto è stato versato sul modello di quanto già fatto dalla Camera e dal Senato cade l'ultimo baluardo dei privilegi ha detto il Ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fracarro finalmente riavviciniamo le istituzioni ai cittadini è una giornata questa da molti definita come una giornata storica ora le regioni approveranno entro la fine di maggio le leggi per applicare questo taglio guardate adesso queste immagini che la regia vi mostra ecco qua la fotografia e poi il video da un rubinetto di un bagno fuori esce dell'acqua marrone e anche maleodorante cosa già di per sé grave e preoccupante ma quello che già è quello che la rende ancora più grave è sicuramente che questo bagno si trovi in una struttura pubblica e per lo più un ospedale che è l'ospedale di Senigallia al primo piano negli ambulatori di oculistica ad inviarci queste immagini è stato un papà che si è recato per una visita specialistica oculistica al figlioletto che dopo avergli cambiato il pannolino dopo aver doveva lavarlo gli è stato indicato quel bagno specifico dal personale di servizio e lì quando ha aperto ha girato la manopola insomma è arrivata la mare a sorpresa il nostro segnalatore precisa anche che da un secondo rubinetto usciva la stessa acqua roginosa alla fine per il figlio si è preferito utilizzare delle comuni salviettine e detergenti ma è rimasto ovviamente lo sconcerto e il disappunto per ciò che è successo ancora rifiuti ingombranti lasciati in mezzo alla strada saranno molto presto tempi sempre più duri per i famosi ed inveterati furbetti del cassonetto indefessi nemici dell'ambiente dall'assoluta mancanza di una morale civica che continuano a dispetto di tutte le facilitazioni e possibilità che oggi si hanno per smaltire correttamente rifiuti di ogni genere ad abbandonare come carbonari nell'oscurità ogni sorta di scarto casalingo a nulla per costoro valgono le moderne applicazioni che Aset ha messo in campo come l'applicazione per i telefonini Juncker gestibile dal proprio device sempre che queste persone siano in possesso di una cultura e di un livello tale di conoscenze da poterle adoperare che consente di individuare e indirizzare di conseguenza l'utente su cosa come e dove disfarsi del rifiuto a nulla valgono le possibilità di conferire nei centri di raccolta ambulanti per la città a nulla valgono il prelievo programmato direttamente a domicilio attivabile con una semplice telefonata ancora una volta registriamo un abbandono al suolo di un rifiuto ingombrante ma questa volta non si tratta di mobili o materassi o altre masserizie ma peggio ancora di un frigorifero con tutto il suo carico di materiali speciali da smaltire nell'ormai arcinota area dell'ex aeroporto nei pressi del grande hangar e fa bella mostra di sé dove è stato lasciato un frigorifero è un rifiuto speciale che va smaltito in modo specifico plastica alluminio e soprattutto cosa ancora più nociva per l'ambiente se non fatto correttamente il gas refrigerante all'interno delle serpentine tipo freon idroflorocarburi che se dispersi nell'ambiente sono altamente nocivi inoltre ci sono parti elettriche ed un compressore a bagno d'olio che anche questo se dovesse fuoriuscire al suolo creerebbe un bel danno ambientale ebbene questo frigorifero questo rifiuto ingombrante questo rifiuto speciale è stato lasciato lì alla merce di tutti in barba tutto questo quindi qualcuno ha pensato bene di caricarselo in auto e anziché fare un chilometro in più ed andare al centro di raccolta differenziata dell'Aset in via dei Platani ha pensato bene di andare lì e buttarlo in mezzo alla strada la notte scorsa poco prima delle quattro nella rotatoria all'ingresso della superstrada Fano Grosseto un mezzo che trasportava pollame ha parzialmente perso il suo carico quattro gabbie contenenti ciascuna una decina di polli sono cadute sulla carreggiata molti animali sono morti sul posto intervenuta una pattuglia del nucleo radiomobile di Fano che ha regolato la viabilità nell'attesa che il personale veterinario dell'Asur arrivasse per recuperare gli animali nel frattempo sono iniziate le ricerche da parte di carabinieri e polizia stradale per intracciare il camionista sbadato ricerche che però non hanno dato frutto oltre 50 telecamere stanno per essere installate da Aset nelle isole ecologiche per mascherare porre freno un limite ai furbetti del cassonetto e dell'indifferenziata sono salatissime le multe alle quali coloro che ignorando qualsiasi regola di buonsenso continuano nella loro errata condotta di smaltimento dei rifiuti a seconda di che tipo di reato si compie se conferimento errato di rifiuto o peggio ancora di abbandono al suolo di materiale vario o di rifiuti speciali o inerti le sanzioni pecuniarie variano dai 50 ai 500 euro ma neanche questo ha scoraggiato le cattive abitudini di alcuni che scambiando le isole ecologiche per delle discariche a cielo aperto nel tempo ci hanno lasciato di tutto dai giochi per bambini alle pentole della cucina lì ai lati dei cassonetti per questo ASET in collaborazione con gli ispettori ambientali ha protetto le isole ecologiche con speciali telecamere per pizzicare i cosiddetti furbetti del cassonetto telecamere che però in questi giorni sono state smontate e per chiederne il motivo ci siamo proprio rivolti ad ASET abbiamo dovuto rifare una gara d'appalto perché quella precedente era scaduta quindi il nuovo soggetto fornisce delle telecamere diverse da quelle precedenti inoltre visto che le telecamere sono di nuovo tipo abbiamo dovuto rifare una prova di staticità dei pali dalla quale è risultato che i primi pali installati non sono idonei quindi devono essere sostituiti sono una quindicina inoltre ecco stiamo comunque aumentando le postazioni sono 52 prima erano 42 quindi a breve dopo la sostituzione dei pali avremo completato l'opera e quindi avremo sul territorio 52 telecamere ecco hanno delle caratteristiche delle performance diverse rispetto alle precedenti noi quando facciamo le gare bisogna che diamo caratteristiche di massima e queste alla prova dei fatti ci hanno comunque soddisfatto come le precedenti hanno ottiche leggermente diverse poi devono essere un po' adattate a seconda dei siti quindi ci sono dei siti in cui richiede un'angolazione di ripresa diversa alcune che invece richiedono un campo visivo più stretto quindi ecco sono abbastanza diverse ma la ditta comunque è una ditta che opera su tutto il territorio nazionale quindi è esperta nel settore e le immagini sono soddisfacenti insomma avete dati anche rispetto alla passata precedente esperienza le persone che fanno i furbetti ci sono sempre comunque le telecamere hanno fatto la grandissima deterrenza sui comportamenti scorretti quindi siamo soddisfatti e in questi giorni stanno arrivando nelle case dei fanesi non solo dei fanesi le bollette dell'acqua con la nuova tarifazione voluta dall'autorità nazionale a Rera qualcuno storcia il naso ma gli aumenti non sono stati decisi da Aset avevamo anticipato nella trasmissione anche in Fano TV del primo di marzo che sarebbero arrivate queste bollette e purtroppo in questi giorni sono arrivate sono in consegna e presentano degli importi per alcune tipologie di utenze rilevanti quindi abbiamo sentito la necessità di organizzare un incontro il giovedì 4 di aprile all'ora 21 presso la Mediateca Montanari dove spiegheremo l'entrata in vigore di questa delibera e l'impatto economico che ha determinato oltretutto siamo di fronte a una bolletta molto complessa perché contiene un conguaglio e un ricalcolo quindi diciamo una restituzione economica di quello che è stato fatto l'anno scorso e un ricalcolo nuovo quindi è anche una bolletta difficile da leggere per cui necessita una spiegazione aggiuntiva ecco ribadiamo però un concetto non è che una vostra pensata voi vi siete trovati a dover applicare qualcosa che viene dall'alto specifichiamo bene ci mancherebbe no lo specificheremo anche il giovedì che purtroppo è una normativa nazionale data da Rera che l'autorità di regolazione energia rete ambiente la quale ha disposto questa delibera la quale ASET deve ottemperare senza mettere una qualsiasi ente collegata quindi è su tutto il territorio nazionale che c'è questo ricalcolo delle tariffe non solo da noi no è su tutto il territorio ovviamente quindi in tempi differenti ma è su tutto il territorio nazionale l'assessorato alla cultura e turismo di Fano anche per il 2019 presenta con largo anticipo rispetto agli anni scorsi il calendario cartaceo degli eventi un piccolo vademecum che raccoglie gli appuntamenti in programma dal mese di aprile sino a quello di ottobre il Deplian è già in distribuzione in questi giorni nessuna variazione sulla linea 4 Fano-Carignano degli autobus le manovre sono sicure così garantiscono dall'azienda Adria Bus le manovre di questi mezzi il plauso del sindaco di Fano Massimo Seri La situazione di trasporti Carignano l'intervento del Comune è stato tempestivo Sì colgo l'occasione per fare chiarezza perché ovviamente siamo in campagna elettorale viene tutto strumentalizzato e c'è chi ci gioca anche sopra allora è vero che Ami aveva messo un avviso che avrebbe ridotto le corse per una ragione di sicurezza per gli autisti che incontravano alcune problematiche nel fare manovra appena io ho visto questo avviso mi sono subito adoperato ci siamo sentiti con la direzione di Ami ho scritto il giorno stesso una lettera dove mi assumevo a nome dell'amministrazione degli impegni per intervenire e creare situazioni migliori per mettere per evitare disagio agli autisti che dovevano far manovra su nel centro di Carignano tant'è che in queste ore ci sono anche dei sopralluoghi e quindi il giorno stesso Ami ha revocato quell'avviso sostenendo che le corse rimanevano normalmente così è quindi voglio tranquillizzare tutti i residenti di Carignano non c'è nessuna modifica tutto rimane come prima per cui penso di non prestarsi alle strumentalizzazioni che ci sono la cosa è avvenuta nell'arco di 24 ore e ci stiamo già adoperando voglio questa occasione proprio per tranquillizzare e dare un'informazione certa a tutti quanti Alla Memo di Fano in questi giorni si tiene la nona edizione di Storie straordinarie incontri dedicati alla cultura della diversità della disabilità e dell'integrazione Dal 30 del mese scorso è partito Storie straordinarie possiamo dire un contenitore con tante iniziative quali sono le principali e quelli in essere nei prossimi giorni Allora questo è un contenitore attivo già da nove anni porta avanti questo percorso molto importante per il territorio per tutti noi che è una finestra aperta sullo sviluppo della cultura sulla disabilità ma una disabilità chiaramente inclusiva è per questo che si tengono questi incontri questi convegni questi laboratori queste presentazioni di libri proprio all'interno di un contesto espressamente culturale che è la Mediateca ci sono stati degli incontri molto interessanti il primo che si è aperto appunto sabato con Movimente poi è seguito un incontro sul lavoro delle varie realtà europee e oggi ci sarà un convegno molto interessante riguarda intitolato Mani in pasta che tratterà il disturbo selettivo quindi del cibo quindi qualcosa che purtroppo oggi molto presente a prescindere da una specificità di alcune situazioni di disabilità domani mattina ci saranno due tavole rotonde che hanno come argomento la prima l'educazione al lavoro poi avremo la presentazione di un grande lavoro sulla valutazione oggettiva del percorso integrativo dei ragazzi bambini disabili all'interno degli istituti comprensivi concludiamo domani pomeriggio con un incontro su disabilità e sessualità in pratica sono 4-5 giorni in cui si traccia tutto il percorso di crescita della persona quindi abbiamo voluto incentrare particolari tematiche proprio per approfondirle quindi è una realtà da vedere da frequentare in questi giorni appunto la Mediateca Montanari proprio perché si vivono queste specificità se nei giorni scorsi c'è stata la partita del cuore con la nazionale cantanti che a Fano allo stadio ha incontrato e giocato contro quella di poste italiane e se non eravate presenti vi invito a rimanere sul canale 17 di Fano TV perché dopo il telegiornale pubblicità e previsione del tempo andrà in onda proprio uno speciale che vi racconterà com'è andata quella partita grazie per essere stati con noi ci vediamo domani mattina alle 7.30 con occhio ai giornali la rassegna stampa di Fano TV arrivederci a